Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Io ovviamente ho iniziato, adesso prenderemo a vedere l'inizio, però volevo iniziare in modo spettacolare, ho scelto una partita diciamo libera dove potremmo fare qualsiasi cosa insomma e quello che vi voglio far vedere è questa è la nave Capital, infatti se io mi metto al comando vedete che il movimento è lentissimo perché la nave è assolutamente immensa. Chi sono i Boron? I Boron sono la specie acquatica e a breve poi vi farò vedere come sono stati rappresentati i Boron dato che sono diciamo solo una razza che vive nell'acqua come i classici acquatici che già si vedevano su Star Trek che non c'entra nulla però insomma anche lì c'erano gli acquatici e gli acquatici vivevano in un posto un po' particolare. Qua vediamo che c'è la prigione, non so effettivamente se avrà un'utilità però vedete che ha questo aspetto un po' così insettoide quasi però vabbè a bordo ci lavorano della gente umana insomma o Argon. Le campagne giunte sono due alla storia e adesso andremo a vedere. Questa è la nave Capital che ha una infinita serie di hangar interni laterali dove potremo attaccare con altre navi. Questa è la nave da guerra più imponente. Adesso io ho premuto su... vi faccio vedere adesso quanto è grande e poi vabbè anzi usiamo la tutta spaziale e vi faccio vedere quanto è enorme questa nave. Guardatela qua è chilometrica. Il design potrebbe anche non piacere a molti di voi però insomma questa è la nave. Questa è l'immensa nave e ora se riesco vi faccio vedere anche come è fatto il Boron. Il... ok. Il Boron viaggia su questa tuta che in realtà è la stessa tuta che usa anche per camminare nelle varie stazioni. Il Boron è all'interno. È questo... questo esserino qua. I Boron sono piccoli, piccoli, estremamente piccoli. Allora la nave è grossa, la nave è abbastanza... ricorda un po' Scorn il gioco che è uscito insomma. Sono stati aggiunti ovviamente nuovi settori, tante nuove navi, due nuove storie. La prima storia adesso mi torno al menu principale. La storia principale si divide come tutti gli altri in gli altri capitoli, in gli altri DLC, in due... una storia guidata e una storia assistita. Come potremmo vedere nella culla dell'umanità c'è il cadetto terrestre che era un tipo di partita guidata e il progetto Genesi che invece era assistito, quindi non era così pressante, così guidante la storia. Qua sotto passano le immagini delle nuove stazioni. Questo, Cuore del Regno, che in realtà poi si chiama Kingdoms End, quindi vabbè vuol dire tutto l'opposto. Comunque Cuore del Regno inizia con contatto. Praticamente andiamo a scoprire appunto i Boron, partendo però con la selezione di una razza tra Argon, maschio e femmina, Teladi o Paranid, con un 5.000 di credit iniziale e un Discover. Poi, una volta che noi completeremo questa missione, questa storia, sbloccheremo l'Araldo della Regina, dove saremo finalmente un Boron. E i Boron, li vedete qui, i Boron sono questi. Lesserino dentro questa tuta, la tuta che poi è una tuta piena d'acqua, insomma, perché sono esseri una razza acquatica. E si partirà con la Tresher Cannoniera, come nave iniziale, e un 200.000 di crediti. Cosa interessante, andando sull'editor della partita, possiamo scegliere chi essere. Questa è una partita personalizzata, quindi non legata alla storia. E vedete i Boron, come sono fatti, così. Possiamo scegliere anche la nostra nave iniziale. Abbiamo il Tresher, vediamo adesso di che... di che... dimensione è, perché non mi ricordo, se è una M come nave. Vediamo. Se no vi faccio vedere direttamente la nave che abbiamo visto prima, la Capital, anzi, magari ve la faccio vedere. Che era qua sotto. Almeno credo sia qua sotto. Excel, sì. Sì, 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 è giusta, è giusta, è giusta. Vediamo, vedete qua la Tokyo, è la nave, la Capital degli Umani, mi pare. La Shark è quella dei... quella che abbiamo visto prima. Praticamente qui adesso abbiamo un allestimento da 55 milioni e questa è la Capital con gli atterraggi laterali, insomma, su cui siamo stati prima. ed è una nave fatta così, insomma. Quindi questa è l'aggiunta della nuova espansione. Espansione che tra l'altro costa una cavallata perché costa 14,99 come tutte le altre. Ed è molto interessante. Chi non conoscesse il gioco, vabbè, lo invito a vedere nei numerosi video o live che ho fatto sul titolo perché ho portato praticamente tutte le espansioni. La culla dell'umanità aggiungeva i terrestri perché ho fatto anche un video, diciamo, sulla lore della serie X, molto basilare per quello che so. e c'è tutta una lore veramente profondissima ed estremamente di nicchia perché il gioco è per veramente pochi appassionati. Abbiamo gli split, abbiamo le fondamenta che sono gli inizi praticamente nel 2018 quando è uscito il gioco c'era questo, poi è uscita la vendetta split, le maredi avidità che hanno aggiunto altre cose ancora, la culla dell'umanità appunto i terrestri, quindi qua non c'è scelta, qua si parte con i terrestri e quindi spiegano chi sono i terrestri, chi sono gli Argon, che derivano dai terrestri, insomma c'è tutta una lore piuttosto particolare, oltre che all'inizio un tutorial. Noi iniziamo con contatto, ho scelto Argon, poi non mi interessa se maschio o femmina, insomma. I Boron si sono visti nel capitolo base quando ci viene fatta scoprire la stazione che poi noi andiamo a prendere ed è un Boron che scappa, ma in realtà sui Boron c'è sempre stato un grosso mistero. I Boron, da quello che ho capito, leggendo anche su Steam, sono un popolo pacifico, ma meglio non farli arrabbiare, insomma, perché la potenza di fuoco ce l'hanno anche con le loro navi, un po' così insettoide, un po' così che ricordano la forma di questi pesci, insomma, vaganti per lo spazio. Il gioco è uno dei pochi che davvero fa generare aria calda al PC, quindi consigliato giocarlo in inverno, e adesso poi io mi ci ributterò con calma ripartendo da zero. Ovviamente il gioco si presta bene sia per la partita con la storia, perché vi consente di apprendere le meccaniche di gioco. Già nelle precedenti espansioni sono state aggiunte comunque nuove meccaniche, come la nave in grado di, diciamo, processare i rottami di altre navi, di trainarle, insomma, di creare una salata di scarica. È stata approfondita la terraformazione come endgame, quindi è possibile sbloccare e terraformare pianeti, ottenendo poi la possibilità di costruire degli edifici, insomma, e generare delle risorse. E la mappa di gioco è stata espansa, ovviamente non parliamo di una mappa vasta come un Evo Online o come una Vorion, che gli sono veramente immense migliaia di mappe, spesso vuote, qua si parla di sistemi definiti, sono quelli, e gestiti dal CPU, sia a livello politico, militare, economico, in modo costante. Quindi non viene generato nulla a caso, come invece avviene in Avorion. Adesso qua la storia sta andando avanti, poi me la rivederò con calma quando inizierò la partita seriamente. Non viene generato nulla a caso perché voi vi trovate lì. Cioè se una nave parte dall'estremità della galassia di gioco, per consegnare del metallo dall'altra parte perché fa il miglior profitto possibile, quella nave si mette in viaggio e fa quello indipendentemente da dove voi siete. Quindi voi la potete intercettare, la potete seguire, e vedrete che questa nave non vagherà a caso perché la state seguendo voi, ma perché sta seguendo un suo percorso da un suo datore di lavoro con delle merci del valore e una nave comunque prodotta da una stazione che produce navi di una fazione che è stata pagata per produrre quella nave i cui materiali sono stati prodotti da altre industrie che hanno altri laboratori. Cioè capite, questa è fondamentalmente la base di questo titolo. Quindi voi seguite quella nave, quella nave fa il commercio, Jack è lì, ne fa altri e torna indietro. Questa è la particolarità di questo gioco, veramente immenso. Ora, prendi controllo della nave. Abbiamo un discover, noi adesso ci troviamo su questa nave. Siamo degli Argon, quindi stiamo viaggiando con gli Argon. Questo è un tizio. Deveva essere un telà di questo. Sì? Poi vabbè, i primi bug di gioco, insomma, appena uscito, ma... Ok, l'eleanza della parola. Sono state aggiunte forse anche nuove fazioni, tra l'altro. Questo è visibilmente un Argon. Prendiamo possesso della nave. Quindi vedete che c'è la linea gialla che ci dice dove andare e dovemo andare nell'area di attacco evidenzata di giallo, infatti. Andiamo all'area di attacco. Viene con me? Scusi, sale? No. Sì, dovremmo essere arrivati. Ok. E la mia nave... Vabbè, premo CTRL-D, mi ritrovo già sopra. Così vedo qual è. Questa qua, carina. C'è già una partita in cui si parte con una nave del genere. Quindi non è nulla di assolutamente nuovo. Anzi, probabilmente l'ho già utilizzata. Devo dire che... Ecco, poi vabbè, questo è un collegamento che viene effettuato con la nave quando noi dobbiamo andare a scambiare delle merci. Ok. Poi ovviamente chi di voi è appassionato al titolo non gliene fregarà niente di quello che dico, insomma. Vedrà le immagini e andrà a acquistare il gioco, insomma. Si parte. E pensate che voi potete andare poi un domani a possedere una nave del genere. Essere voi al comando o affidare il comando a qualcuno mentre voi fate altro. Così come potete decidere di dedicarvi all'industria, alla guerra. E la guerra significa che attaccate navi grosse come quella lì, che abbiamo appena visto. Ah, intanto sono andati via gli altri. Decidendo magari di attaccare i motori per fermarla, poi mandare i militari con la capsula ad assaltarla, farla vostra, distruggerla completamente, insomma potete fare quello che volete. E questa è l'immensa libertà che vi consente di avere in questo gioco, insomma. Ok. Scusate, ma sono un po'... Ok. Si viaggia verso... Si va in modalità di guida. Le classiche modalità, insomma, se non avete mai visto il gioco, molto male. Vediamo quanto fa di questa... Questa nave di velocità di carcere. È un discoverer, quindi io mi aspetto che abbia comunque dei... Un buon... Oh, stiamo entrati in un'area non... Stiamo rilevando una forma energetica... Ok, andiamo a vederla, allora. Uh, ci fa già scoprire subito, subito, subito. Questo è una costante bontà divina, ha funzionato. Questo è un buon... Ce la fa scoprire subito, di solito la tira avanti qualche ora prima di farci scoprire la stazione. E alla fine questa, dicevo, è una costante di ogni trama, cioè trovate la stazione iniziale con cui iniziate. Poi potete costruirne altre, insomma, in base alla vostra libertà. Ed è un gioco, per chiarire giusto i dubbi, che può essere giocato in ogni modo possibile. Cioè potete farvi la storia e sarebbe bello che magari prendete anche solo il gioco base, vi fate tutte le storie che vi propone all'inizio, prendete familiarità. Questo vi insegna a giocare, ma in realtà ogni partita poi potete ignorare quello che vi dice di fare, vi dà un background iniziale, dei soldi, già magari dei possedimenti. C'è un inizio che vi dà già una fabbrica di olio... Una fabbrica di girasoli, scusate. E basta. Adesso qua ci ha avviato un'altra missione perché ci ha fatto scoprire questa stazione. Lo faremo dopo. Quindi voi potete ignorarla in qualsiasi momento, però ovviamente avete un background iniziale. Quindi se partite di una razza avete determinate amicizie. Poi le potete tutte stravolgere come volete, facendo i vostri commerci, le vostre scorribande militari. Oppure potete decidere di iniziare una partita configurandola, questo ve l'avevo già detto in una precedente patch, in una precedente DLC, potete configurarvi la partita come volete. Cioè potete impostare di iniziare con una determinata storia, con degli step magari già completati o fare addirittura una partita libera. Ve la potete configurare come volete. Se volete partire solo con la tuta spaziale, partite con la tuta spaziale. Sarà molto più difficile. Però alla fine fondamentalmente il gioco è... Adesso qui il territorio che conosciamo è piccolo, ma in realtà poi è immensa. E ovviamente poi ci sono gli Xenon e c'è una lore, una grande lore intorno, perché voi scoprirete che gli Xenon sono dei droni inviati prima dagli umani, insomma che poi si sono diventati senzienti, si sono autoriprodotti e hanno una caratteristica unica nell'universo, che è quella di produrre qualsiasi nave usando solo celle solari, cioè celle energetiche, quindi senza necessità come noi, di dover produrre, raffinare il metallo, produrre le parti, parti per scafo, parti per motori e poi assemblare la nave. Insomma, questa è la Tokyo. Dalla forma. Poi è meraviglioso, ogni razza ha le sue navi, il suo design. Tra l'altro con l'ultima patch hanno aggiunto anche una personalizzazione delle navi da costruzione, perché la navi da costruzione aveva un po' il problema che erano tutti uguali indipendentemente dalla razza, la forma era quella. Ora sono personali di ogni razza. E che cos'è una nave da costruzione? Quando voi andrete a costruire la vostra stazione, dovrete, se non ne possedete una che costa un sacco di soldi farla, dovrete noleggiare di qualsiasi razza insomma con cui avete un abbastanza buon rapporto, affidargli il compito di costruire per voi la stazione. Cioè voi mettete in cantiere la costruzione, che so, dei pannelli solari per produrre le celle energetiche nella vostra stazione, vi serve una nave da costruzione. Quindi appaltate a una di queste il lavoro, pagate, lui organizzerà l'arrivo e l'acquisto con i vostri soldi, ovviamente, dei materiali di costruzione e inizierà l'assemblaggio della parte della stazione. E ora le hanno personalizzate. Poi se deciderete invece di fare una nave vostra da costruzione, userete la vostra, insomma, oppure la manderete in giro facendone prendere i vari contratti dalle varie gente per fare soldi. Insomma, a livello economico è assolutamente eccezionale. Calcolate che io di questo gioco ci ho passato più di 150 ore, ma non ho quasi mai fatto guerra su larga scala. Ho fatto quello che mi chiedeva la quest, quello che mi davano le missioni di caccia alla taglia, insomma, ma non ho mai approfondito. Ma al tempo stesso c'è gente che non ha mai fatto nulla quasi di economia, quindi stazione, commercio, produzione, vendita, minaggio, robe varie, ma ha sempre fatto solo guerra. Quindi saprebbe spiegarmi nel dettaglio tutte le meccaniche di battaglia. Poi è un gioco che vi lascia anche un'estrema libertà di ruolaggio per quanto sia single player, ma vi darà un'immensa soddisfazione avere magari le vostre navi, la vostra stazione personale che produce, con commercio, vedete navi che arrivano da altri sistemi che commerciano, rispondono alla vostra richiesta di vendita o acquisto e voi vi presenterete davanti a questa stazione o andrete addirittura a incontrare il rappresentante di una fazione per comprare nuovi progetti all'interno della vostra nuova nave Capital. e quindi vi darà soddisfazione perché vi farà sentire potenti. Dovremo esplorare questo nuovo settore perché abbiamo scoperto questo nuovo portale. Intanto viaggiamo... Sì, qua ovviamente, indubbiamente ci farà... Ci farà scoprire i Boron, sicuro. Tanto ho attivato la modalità di viaggio rapido. Insomma, da dire... Tanto da dire non c'è. Perché ovviamente dovrei passare le ore a spiegarvi che cos'è questo gioco e magari, ovviamente, se ci saranno tante richieste, ci potremo fare anche una live. Ovviamente non voglio dilungarmi inutilmente perché ho già fatto diversi video soprattutto su come cominciare, su come fare i primi soldi minando questi asteroidi qui cercando i cristallini all'interno. Quindi sarebbe estremamente noioso seguire la storia adesso perché ve la dovete godere. Ovviamente vale la pena prendere... Dovrebbe esserci anche il pacchetto, quello con tutte le espansioni? Assolutamente sì. Ma se volete giocarvela tranquillamente potreste prendervi anche solo il gioco base e vedere se vi piace. Ovviamente il gioco base non ha tutti i territori, non ha tutte le razze e poi si mixano insieme. Vi buttano nuova carne al fuoco con i DLC perché ogni partita poi ha i nuovi settori, le nuove razze. Quindi, insomma... E l'aggiunta dei Boron è abbastanza clamorosa perché in nessun altro gioco, se non ricordo male, c'erano. Ma erano solo nominati, quindi... Ok, usiamo Shift 3, scansione a lungo raggio. Quindi scansioniamo il territorio tenendo premuto R e scansioniamo. E questo ci serve ad individuare all'interno del settore delle cose tipo queste. Vedete questa è la mappa del settore con quello che ho esplorato. Questa è una zona, dovrei vedere la leggenda, mineraria e gassosa. Quindi qui si può estrarre il gas, qui si possono estrarre dei materiali. Ora io posso andare di là. Non so perché sto sbandando così, però... Perché probabilmente mi sono girato velocemente, ok. E ora si va e si esplora. È un gioco che ha un audio meraviglioso, della musica stupenda, rilassante. E ve lo potete giocare senza fare... Perché la dinamicità di questo universo è pazzesca. Voi andate sempre... Ovviamente dovete essere un minimo smart, nel senso che dovete familiarizzare con gli ambienti, con i settori. Perché ad esempio voi vi trovate sempre magari a fare un tipo di commercio, un tipo di minaggio che poi vendete a una stazione. E questa stazione a un certo punto andate a vedere, guardate la mappa, dovete andarci, ma notate che è circondata da un'altra fazione che la sta attaccando. Quindi ve ne state alla larga e vedete cosa succede. Quello che può succedere è che la stazione abbatte gli oppositori e finisce lì. Gli oppositori distruggono la stazione, quindi voi non avete più il vostro commercio e tutta l'economia intorno ne risente. Quindi voi dovete trovare qualcun altro che vi acquisti la roba, insomma. Oppure questa stazione viene conquistata da questa nuova fazione, quindi potrebbero cambiare un pochino i prezzi. Ma anche nel caso precedente, in cui la stazione venisse distrutta, magari è una stazione che produceva qualcosa di fondamentale e diventa carente tutto il sistema. Quindi voi potete cavalcare l'onda e se avete magari, siete stati lungimiranti e avete accumulato risorse, potete andare a sostituirla, magari facendovi amici quelli che l'hanno distrutta. Quindi, ecco, per fare l'esempio, insomma, questo potrebbe essere una possibile sfaccettatura di questo titolo per quanto riguarda l'economia. Ora stiamo arrivando qua. Lui vive in un acquario, comunque. Nulla di interessante, quindi bisogna andare verso l'altro punto, credo. Comunque, insomma, niente di nuovo, anche a livello di trama, la meccanica è bene o male quella che si vedeva già anche negli altri inizi. Ovviamente le storie non sono questa roba, così qualche colpo di scena c'è, ma la base è quello che fate, insomma. Questa è la nave e noi stiamo guidando la nave. Sì, ho scelto l'Argon Don. Bella. Bella perché poi è configurabile. Potete metterci quello che volete. La nave, voi, quando ne acquistate una, la ordinate a una fabbrica di costruzione e ci metterà tot tempo. Ovviamente, se è stata distrutta la fabbrica di, non so, gli elementi che compongono lo scafo, il tempo d'attesa per la produzione della nave che avete ordinato non sarà magari di due minuti come è normalmente, ma sarà di qualche ora, reale, perché non arriva il materiale. Ovviamente voi state facendo anche mille altre cose, quindi vi dedicherete ad altro intanto, o la ordinerete da un'altra parte. Ovviamente ogni stazione che produce navi di una razza le produrrà della razza della quale appartiene la stazione. Quindi i Paranid, ad esempio, sono una razza molto religiosa, un po' particolare, e hanno delle navi dalle forme non a livello dei Boron, che sono molto insettoidi quelle, ma sono molto slanciate, molto aerodinamiche, se così vogliamo passare il termine, e sono velocissime, e quindi mi piacciono molto quelle, perché sono navi veramente... Poi ci sono delle missioni veramente molto interessanti, dove andremo a esplorare anche all'interno di stazioni abbandonate, dove ci sono magari delle trappole, dei sistemi di allarme, degli enigmi ambientali, quindi il gioco è molto, molto vario. Ovviamente dovete essere appassionati di fantascienza, come base, come prerequisito per avvicinarvi a questo titolo, che ovviamente adesso io mi giocherò con calma. Peccato che non escano mai in inverno pieno questi giochi, perché mi aiuterebbe a riscaldare un pochino la stanza. Perché il PC comunque lavora. È tanto calcolo, più che la grafica, ok, ma è tanto calcolo anche di CPU, per calcolare tutte le rotte che vedete. Adesso qui no, ma all'interno qui ci sono, se mettessi dei sensori, dei satelliti, vedrai i navi che vanno, viaggiano, fanno cose, quindi qui c'è ad esempio una raffineria di polvere Maya, e cliccandoci sopra io vedo che, acquistano queste merci, e vendono le polveri Maya. Quindi, se io avessi delle celle di energia, che ormai è la base di tutto per la produzione, potrei venderle a loro. Così come la distilleria Space Fuel, produce Space Fuel, e acquista questo, celle di energia, frumento, acqua, quindi potrei mettermi qui a fare produzione, ad esempio, voglio, metto una stazione qui, che produce acqua. L'acqua me la devo minare dagli asteroidi di ghiaccio, e creare la mia stazione con i serbatoi, quindi dal ghiaccio lo trasformo in liquido acqua, e la vendo a loro, ovviamente non guadagnerò tantissimo, perché potrei sfruttare, e vendere merci molto più lavorate, molto più preziose, quindi insomma, che botta. Ok, e qui mi sa che c'è qualcosa da fare. Vai verso l'ascensore, devo uscire con la tuta, vedete, ecco questa, e qua, chiudiamo, mi alzo all'interno della nave, e posso andare, a, dove è che è qui, e vado in tuta spaziale, a vedere che cosa c'è all'interno, di quella stazione. Qua inizia subito, perché poi, ogni partita è estremamente diversa, come storia, perché già in una, mi è unito dei contrabbandieri, e quindi, ero, comunque, mi sentivo un po' disonesto, verso i miei compagni, ecco, fare le storie, quindi comprare tutte le espansioni, e fare tutte le storie, vi aiuta a chiarirvi un po' l'idea, sulle varie razze, quindi se poi, domani decidete di, dopo averle completate tutte, di ricominciare, magari con una partita libera, o con una partita di quelle lì, insomma, che poi, potete cambiare come volete, insomma, comportandovi di conseguenza, conoscerete bene, tutte le tematiche, che spingono, che motivano, le varie fazioni di gioco, quindi, insomma, non è, non è, non è soltamente banale, è un gioco molto, molto impegnativo, questo, che, che vi trarrà impegnate, impegnati, migliaia di ore, ma, veramente migliaia, ecco, non lo, non lo dico tanto spesso, ma, eh, succede, ogni tanto capita, perché ci giochi, ci sono pochi giochi, ma ce ne sono, che richiedono veramente un impegno, una conoscenza, una dedizione, però tutto ovviamente è single player, quindi ve lo godete come volete, cos'è questo? Sei metri, no, non è qua l'ascensore, adesso volevo entrare, e, e capire, che cos'è questo posto, ma questa, da dove si entra? Da qui? No, mi dice di andare di là, l'ascensore è dall'altra, ah, devo ripararla, ok, col pannello, ok, 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 capito, praticamente, ora, ripariamo questo pannello, e dovrebbe accendersi qualcosa, ok, status, ok, siamo anche capovolti, tipo, rispetto a, aprire lo spazio, poi è un po' quello che è, non so cosa stia succedendo, ma, raccogli container, eh, sì, vabbè, poi il gioco ha qualche problemino, quando andate addosso, velocemente, alle varie, ah, ma questo qua non è, è un container, quindi praticamente, dovremmo andare, con la nave, recuperare questo container, molto interessante, ragazzi, questo è la Kingdom Sender, nuovo, e penso ultimo, DLC, di X4, che poi, vabbè, si chiamava X4 Foundation, le, le, il gioco base, fatemi sapere che cosa ne pensate, ovviamente, rimariamo in attesa, se ci saranno futuri aggiornamenti, se vi interessa vedere una live, fatemelo sapere, faccio live sul tubo adesso, da qualche tempo, non ne ho fatte tantissime, ma, mi sto concentrando su quello, perché siete comunque molto di più, ed è più facile comunque, avere un'interazione, e, il canale viola mi sembra più, un succo a soldi, insomma, quindi, fatemi sapere, ovviamente, e fatemi sapere, che cosa ne pensate, per quanto non abbiamo visto, molto, ma, spero di avervi chiarito i dubbi, se siete nuovi del genere, su quello che ha da offrire, questo titolo, e, sicuramente, risponderò alle domande, quindi fatele, se avete dei dubbi, o delle curiosità, per quanto riguarda questo gioco, del tipo, X4 mi permette di, oppure, se io sto cercando questo, quello, quell'altro, è un gioco che fa per me, io vi rispondo, quindi fatemi sapere, non abbiate paura a domandare, con questo io vi saluto, e vi rimando, a un prossimo video gameplay, alla prossima, e ciao ciao.